bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video per festeggiare i due anni della nascita di trading on faccio il video del botto ragazzi un video bomba assolutamente perché oggi vi farò vedere quanto ho portato a casa lo scorso anno con un investimento a capitali garantiti a rendimenti garantiti oltre 20.000 euro di guadagno per questa gestione per questo portafoglio di investimento benissimo allora ragazzi andiamo sul conto bancario lo apriamo vi faccio vedere il portafoglio e parliamo di che tipologia di strumenti sono stati utilizzati perché questi strumenti finanziari alla fine del video ragazzi vi svelerò anche come potete voi stessi creare un tipo di portafoglio in questo modo cosa dovete andare a controllare e i miei tips ragazzi quindi i trucchetti che magari vi aprono un po' la mente e vi fanno scegliere magari quelli che sono gli strumenti più utili per il vostro profilo di rischio per quelle che sono le vostre aspettative di rendimento ma non è stato per niente facile realizzare un video del genere ve lo assicuro ragazzi è sempre un po' un argomento controverso perciò vi chiedo una cosa assolutamente intanto tirate su un pollicione per questo video per aiutarmi anche con l'algoritmo di youtube ma poi ragazzi iscrivetevi al canale soprattutto nei commenti del video quali sono i vostri strumenti preferiti secondo voi gli strumenti che possiamo anche analizzare su questo canale perché no se avete fatto degli investimenti avete dei portafogli finanziari come stanno andando e quali strumenti state utilizzando un'altra piccolezza di cui mi ero dimenticato tutti gli strumenti finanziari ragazzi saranno coperti perché non voglio in nessun modo darvi consigli finanziari con questo video non è l'intento di questo video bensì spiegare come anche voi potete creare il vostro portafoglio e farvi vedere i risultati che si possono avere con un investimento culato fatto bene con strumenti azzeccati perciò tutti gli strumenti saranno coperti ragazzi non me ne vogliate ma è quasi un obbligo è anche giusto così e poi ovviamente tutte le informazioni relativamente al conto quelle della privacy saranno coperte spostiamoci a vedere questo portafoglio andiamo a guardare questa composizione di questo portafoglio tutto quello che vedete qui nella parte diciamo strumento vedete sono solo obbligazioni ragazzi quindi questo è un portafoglio che è stato costruito a capitali garantiti e rendimenti garantiti perché sono rendimenti di natura obbligazionaria non sono azionari poi c'è una parte azionaria in etf che andremo a vedere ed è pari al 20% circa 15% di questo capitale investito il valore di carico dell'operatività era intorno ai 156.000 euro siamo arrivati all'inizio di questo anno 2020 con una plusvalenza di circa 15.000 euro 949 per cento ragazzi più le cedole che sono state incassate e che vedete in questo saldo disponibile perché sono state incassate anche le cedole ragazzi perché le obbligazioni come tipo di investimento hanno una duplice funzione quindi possono incrementare sul prezzo come in questo caso vedete la variazione percentuale e degli incrementi su questi titoli ma possono anche dare degli utili in termini di non dividendi ma sono cedolari gli utili ragazzi e quindi queste obbligazioni praticamente quasi tutte tranne due hanno pagato altissime cedole oltre al rendimento che vedete sulla valorizzazione del portafoglio c'è anche quello cedolare che lo vediamo qui nel saldo disponibile che ancora non è stato reinvestito come è stato creato questo tipo di portafoglio a che scadenza è stata creata una scadenza mista ragazzi allora ci sono delle obbligazioni molto lunghe che sono titoli di stato questo ve lo posso svelare e poi ci sono delle obbligazioni un po' più rischiose che sono corte e poi una parte diciamo è stata creata con tassi di cedolari variabili come i cct per esempio e altri invece sono addirittura degli zero coupon quindi è un portafoglio misto ovviamente ragazzi questo è interamente fatto da me dalla A alla Z quindi totalmente creato da me vi racconto questa storia questo breve aneddoto quando ho proposto per esempio alcuni investimenti di natura un po' più rischiosa perché le obbligazioni subordinate ragazzi sono più rischiose di quelle normali in consulenti bancari ho iniziato a vedere che smussavano a dire sono investimenti rischiosi meglio evitare non è giusto non sono corrette allora ragazzi ovviamente alla fine dei conti quindi quando i conti sono stati fatti alla fine della giostra quei rendimenti hanno performato tantissimo intanto ragazzi nella gestione finanziaria ciò che è rischioso è del tutto personale non è legato a un fattore predeterminato sì è vero abbiamo dei regolamenti e chi lavora in banca deve rispettare dei regolamenti correttamente quindi loro hanno un po' le mani legate però da un punto di vista logico bisognerebbe indicare ciò che è rischioso un po' anche al di fuori di quelli che sono i classici parametri che insegnano perché non è del tutto vero che sia così un esempio classico quando la Lehman Brothers fallì ragazzi lo sapete che rating aveva la Lehman Brothers quando è fallita come azienda una tripla A ragazzi ok era garantita sei volte di più dello stato italiano però è fallita dall'oggi al domani nessuno se ne è accorto insomma ok ragazzi quindi dati va bene però apriamo anche gli occhi davanti al mercato perché spesso capita che ci sono delle occasioni ghiotte proprio perché il mercato esaggiene magari alcuni atteggiamenti come è stato possibile creare questo rendimento grazie al cambio politico al governo italiano ve lo dico in maniera molto facile da capire perché quando è cambiato il governo quindi all'estate del 2019 il governo italiano è caduto lo spread italiano dei titoli di stato è estremamente più alto di quello che abbiamo attualmente quindi nel momento in cui il governo è caduto io sono andato a fare le mie manovre e l'avevo anche parlato in qualche video dove parlavo dello spread italiano perché perché ragazzi era estremamente facile intuire quello che sarebbe successo sui mercati obbligazionari cioè l'intervento di un governo giallorosso quindi filo PD in sostanza filo PD uguale filo finanza internazionale uguale spread che va giù a picco ragazzi quindi non era difficile fare questa cosa allora via lì con investimenti pesanti sui titoli di stato italiano lunghi perché avrebbero beneficiato di questo tipo di intervento questo rendimento qui ragazzi è un titolo di stato più 44% questo è un titolo di stato ragazzi ok quindi pensate un po' che cosa significa e questo anche per dimostrarvi che i mercati occasioni ragazzi ne danno ne danno anche quelli hold non solo i criptovalute eccetera però bisogna anche sapere quello che si fa chiaramente cose del genere sono per chi ha molta attenzione sui mercati per chi opera in un certo modo ma sono realizzabili andiamo a vedere invece quello degli etf ancora una volta qui abbiamo un rosso ragazzi guardatelo qui allora questi sono un portafoglio etf che guadagna il 7,97% l'8% estremamente prudenziale questo tipo di portafoglio ha una parte costruita da un punto di vista di creazione di dividendi che è questo qui ragazzi questo crea dividendi perché investe su strumenti azionari americani per lo più che hanno alto livello di dividendi poi ci sono degli etf di natura tecnologica che è questo qui il più performante 26% questo tra l'altro ragazzi è stato un etf venduto e ricomprato in realtà la performance degli ultimi due anni però questo insomma è solo quello dell'ultimo anno di questo etf addirittura ragazzi ha superato l'85-90% perché qui parliamo che dentro ci sono apple, microsoft, google, facebook, netflix dentro abbiamo un etf composto da un punto di vista tecnologico quindi la performance è stata molto molto alta gli ultimi che vedete quelli un po' più piccolini questi qui in perdita e questi qui sono strumenti invece di natura obbligazionaria quindi etf obbligazionari legati all'inflazione inflazione che come sappiamo non galoppa e quindi questi non hanno performato per nulla questo addirittura è andato in leggera perdita l'insieme di questo investimento più il precedente che abbiamo visto sui portafogli obbligazionari rende il nostro portafoglio un portafoglio di natura bilanciata ma estremamente prudenziale perché abbiamo un 10-15% investito in etf mentre la restante parte l'85-87% investito in obbligazioni a capitali garantiti bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi ho fatto vedere anche i numeri di quello che è possibile creare con gli investimenti giusti sui titoli giusti a capitali garantiti passiamo ai tips, ai trucchi vi svelo quali sono i tre trucchi fondamentali che io utilizzo quando creo questo tipo di portafoglio e alla fine come ho già fatto in un video precedente il quarto che è un bonus primo utilizzare una strategia che si chiama Core Satellite questa è una strategia che io ho appreso nel mio bagaglio da investitore quando avevo 26 anni circa quindi dopo l'università quando facevo un master a Milano durante quel periodo, quei sei mesi di master ho appreso questa strategia e ho iniziato a utilizzarla per i miei investimenti è una strategia semplicissima ragazzi e prevede in maniera molto semplificata ve la spiego un investimento Core e un investimento Satellite che gira intorno vi ricordate quelli che erano i due soli più o meno in Star Wars ragazzi chi di voi ha visto la trilogia se la ricorda allora l'investimento Core Satellite esattamente è fatto così ci sono due pianeti uno molto grande che è il cuore del portafoglio il cuore dell'investimento e l'altro piccolino che ruota intorno quali sono i due ruoli di questi pianeti, di questi soli? in sostanza il Core vi genera un investimento che vi genera un po' di cash ed è estremamente prudenziale mentre il Satellite è un investimento molto aggressivo un po' più aggressivo poi questo dipende dal vostro portafoglio di rischio è una cosa estremamente soggettiva però questo è il mio primo consiglio quella, la strategia basilare molto semplice ma utilissima ragazzi perché poi le diverse tipologie di strategie sono all'interno di questa prendete l'80% del vostro capitale da investire in questo tipo di strumenti e lo mettete a rischio molto molto basso il Core poi prendete un 20% e iniziate a fare un investimento leggermente più rischioso magari un azionario magari un ETF di Natura Tech eccetera magari Bitcoin ragazzi e fate un Satellite il Satellite ragazzi a cosa serve? serve a innalzare il rendimento del Core di investimento un pochettino quindi magari se l'investimento Core vi genera un rendimento attorno al 3% con il Satellite portate se tutto filaliscio chiaramente questo tipo di investimento da rendermi intorno al 4,50% sono percentuali che nel mercato Hold per un investimento ragazzi di natura estremamente prudenziale sono di grande rispetto e ricordatevi sempre che la strategia Core Satellite è una strategia di investimento bilanciato estremamente prudenziale secondo tip ragazzi spulciate i grafici dovete guardare i grafici di settore perché se volete iniziare a capire come gestire come creare ad esempio la parte Satellite del vostro portafoglio dovete avere davanti qualche grafico andate ad analizzare i grafici più importanti il primo l'SP500 l'indice americano più famoso del mondo e quello più importante è un faro vi indica se l'economia va bene o meno a livello internazionale secondo grafico importante da guardare il Nasdaq magari il composito del 100 ma basta anche guardare i grafici relativamente ad Apple Facebook, Amazon quelli che sono in sostanza i titoli di natura tecnologica Microsoft ad esempio Google molto molto buoni come grafico andate a spulciare i grafici perché dovete andare a vedere se un trend per esempio è al rialzo o al ribasso mettete nel vostro portafoglio Satellite due tipi di strumenti quelli che hanno un trend ben delineato al rialzo e quelli che hanno un trend in ripresa al rialzo ragazzi ci sono queste due tipologie di approccio io preferisco sempre mettere un 80% di trend che sono già al rialzo e un 20% di trend che si stanno riprendendo quindi bisogna stare attenti a decidere cosa mettere dentro spulciate i grafici tre ragazzi la regola più importante di tutti trovare le occasioni e le opportunità sul mercato come si fa? allora si fa in un modo molto semplice vi insegno un trucco minimale facilissimo ragazzi andate a vedere le notizie di politica economica se c'è una guerra da qualche parte un macello a livello politico un casino scusate il termine che sta scoppiando da qualche parte la volatilità del mercato si alza lì in quel momento il mercato finanziario sta generando una serie di occasioni e sì perché quando la volatilità sale ragazzi ci sono le occasioni ci sono anche i rischi ma ci sono le occasioni quindi molto semplice per trovare occasioni andate a vedere quei titoli quegli strumenti quei settori che stanno subendo magari un po' di volatilità lo è stato ad esempio facebook quando c'è stato il caso relativamente al problema della privacy dei dati che è crollato a picco occasione d'oro ragazzi si è verificata ma era difficile da prevedere facile da prevedere bastava una semplice inversione di trend sul grafico daily di facebook per entrare ragazzi e a questo punto avevate fatto un grandissimo rendimento come vedete spesso le occasioni sono anche frutto di un po' di intuito ma anche soprattutto di una metodologia non dovete andarle a cercare giorno per giorno in continuazione aspettate una news gigantesca ad esempio questa di facebook è stata esemplare ragazzi oppure quella che ho utilizzato io la caduta del governo italiano del passaggio da un governo a un altro governo era una situazione ad alta tensione che poteva dare delle opportunità aspettate queste notizie e andate a vedere quarto bonus ragazzi dovete avere pazienza dovete essere il tipo al lago che aspetta il cadavere che passano come si dice in quel famoso proverbio dovete avere pazienza non investite tutti i vostri risparmi che avete anche deciso di investire in questi tipi di portafoglio non investiteli tutti subito ma aspettate aspettate le occasioni e anche quando arrivano le occasioni ricordatevi ragazzi che non è mai sicuro un investimento che tutto ciò che facciamo è sempre rischioso perciò non mettiamoli magari tutti aspettiamo il prossimo perché la diversificazione è alla base dell'investimento corretto bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciarmi un pollicione condividete questo video ragazzi è stato un video difficilissimo da fare e spero appreziate tutti i contenuti super contenuti presenti qui in questo video ciao a tutti da Mauro Caimi vi auguro buon fine settimana ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti